Gentili telespettatori, buona giornata. Alcuni dicono, più di alcuni, diverse persone che gravitano intorno al Parlamento, al Senato e sono nel Parlamento e nel Senato, pensano che Giuseppe Conte si stia giocando una carta. Dice quale carta? Lui punta assolutamente a rimanere in politica e lo ha detto, io voglio rimanere in politica. Vi ricordate che nel Conte 1 diceva quando finisce questo governo io me ne torno all'università, ma ci ha preso troppo gusto, adesso dice che è università, quale università? Io rimango qui. E così, lui sta pensando prima di tutto, si dice che ci sia un accordo con Zingaretti, questo accordo dice che Conte, nel caso cadesse il governo, sarebbe proposto da Zingaretti come candidato premier per tutta la coalizione di centrosinistra. Renzi si è infuriato quando ha sentito questo perché è Renzi che voleva fare il candidato premier dopo aver distrutto il PD, avergli tolto voti senatori e parlamentari, ma non è successo. Quindi vede come fumo negli occhi questo Conte, l'odia magari anche inconsciamente o consciamente, perché è quello che gli sta portando via i sogni, i sogni del Matteo Renzi. Ma lui, Conte, vuole di più, come quella canzone che diceva si può dare di più. Ecco, lui vuole di più. Che cosa vuole? Lui vuole arrivare al Quirinale. Lui vorrebbe diventare presidente della Repubblica, capo dello Stato. Ha le buone maniere, ha il modo pacato di parlare, è colto, è riflessivo e sembrerebbe super partes, perfetto per fare il presidente della Repubblica, perché lui non si è mai troppo apertamente schierato. Era andato alla festa di Fratelli d'Italia, poi era andato alla festa della sinistra, di Leu, e poi si è rappresentato alla festa del Cinque Stelle. Tutte le feste è andato come dire, eh, così voi non capite qual è la mia tendenza politica. Beh, però tutti l'hanno capito. È un uomo di sinistra. Lui se l'era fatto scappare qualche volta, no? Un uomo di sinistra. Quindi con l'idea che lui sia super partes, che abbia preseduto governi dove lui arriva dall'università, lui non ha tessere di partito, lui non ha militato in nessun partito, quindi prima un governo Cinque Stelle-Lega, poi un governo Cinque Stelle-PD, e quindi lui starebbe puntando al Quirinale. Ma per puntare al Quirinale dovrebbe essere proposto da qualcuno, o dal centro-destra o dal centro-sinistra. Quindi il centro-destra non lo proporrà mai, gli rimane solo il centro-sinistra. E il centro-sinistra chi è? Il centro-sinistra è il PD. Togliete il centro che è azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, però è un centro di 5-6%, c'è un Leo da 2%, alla fine il centro-sinistra o solo la sinistra senza il centro, o una sinistra un po' che guarda verso il centro, è il PD. E sono gli unici che potrebbero proporlo come Presidente della Repubblica. Però per fare questo deve ingraziarsi il PD. Ed è per questo che sta cercando di essere accondiscendente con Zingaretti, sta cercando di assecondare i Cinque Stelle, si trova in mezzo, non deve far arrabbiare Di Maio fino al punto che possa far cadere il governo, però deve continuare a dire sì, sì, certo, hai ragione, a Zingaretti, perché è Zingaretti che potrebbe proporlo sia come Presidente del Consiglio di nuovo in un conte terzo, il trisconte, e potrebbe dopo addirittura proporlo come Presidente della Repubblica. Intanto il 2020 si apre per la maggioranza sull'insegna degli stessi temi e problemi del 2019, salario minimo, scuola, sanità, grandi opere, e quindi il governo starebbe ripartendo dagli stessi temi, e cioè diviso praticamente su tutto. Quindi il Premier riparte dalla fatidica agenda di governo, quella che dovrebbe scrivere lui e tutti gli attori di governo, le quattro sinistre, l'EUPD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, fino al 2023. Lui che vuole esorcizzare la caduta del governo, cerca spasmodicamente di dire no dai dai parliamo, parliamo del futuro, scriviamo programma, cronoprogramma, non vuole vedere quello che sta succedendo intorno, il Movimento 5 Stelle che si sta sbriciolando, che perde ogni giorno un pezzo, come una vecchia mummia, si sta sbriciolando perché è cambiato il clima, e così vuole guardare avanti, senza guardare laterale, né a destra né a sinistra, ma vuole guardare in fondo a quel tunnel dove l'uscita è il 2023. Si parte, lui ho fatto un video sui sette problemi che saranno presenti nel governo dal 7 gennaio fino al 26 di gennaio, quindi 7 gennaio riunione sulla prescrizione, fino al 26 gennaio, elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, che potrebbero essere un terremoto, sia la prescrizione che le regionali, e altre 4-5 cose che ci sono in mezzo tra il 7 e il 26. Cercate un mio video, ho fatto un lungo video di più di 30 minuti, proprio parlando nel dettaglio di questi sette problemi che si presenteranno tra pochi giorni, fino al 26 di gennaio, potrebbero tutti fare cadere il governo. Quindi Di Maio ritorna a cavalcare il salario minimo che poi trovava d'accordo anche il PD, anche il PD era d'accordo sul salario minimo. Salvini reputava un qualcosa di socialista. Io sono favorevole al salario minimo. Cos'è il salario minimo? Si stabilisce una paga oraria minima per qualunque tipo di lavoratore. Dice, guarda, meno di 9 euro all'ora, lordi, non si può pagare. Tu puoi pagare 10, 20, quello che vuoi, ma non meno di 9 euro. Il contratto metalmeccanico magari parla di 10, quello del chimico 11, quello dei bancari di 13. Il governo dice, voi fate i vostri contratti, decidete i livelli, quel caspita che volete, ma non potete pagare meno di 9. Molti sindacati dicono, ma noi paghiamo già più di 9, e quindi non c'è da preoccuparsi. Se pagate già più di 9 non c'è problema. L'importante è che nessuno in Italia guadagni meno di quella cifra che verrà stabilita. Certo che Di Maio voleva mettere una cifra che era altissima, una delle più alte al mondo. E mettendo una cifra così alta, in un paese già super tassato, le imprese dovrebbero alzare gli stipendi. Perché attenzione, se prima gli stipendi, ipotizziamo un numero a caso, 9 euro paga oraria minima. Mettete che c'era un lavoratore che prendeva 7, 1,9 e 1,11. Se quello da 7 si alza 9, quello che era 9 deve per forza alzarlo a 11, quello che era 11 alzarlo a 14. Non può lasciare invariato, perché se quel salario minimo supera alcuni livelli che erano già preimpostati nei contratti nazionali, anche tutti quelli di sopra si devono alzare, a meno che non era così basso che si possa alzare solo il primo livello, gli altri erano già più alti. Però quindi a catena ci sarebbe poi un rialzo per tutti i livelli superiori. E quindi comporterebbe un aggravio per le imprese enorme. Ma quello che voleva fare Salvini, che era d'accordo con Di Maio, è va bene, mettiamo il salario minimo. Quindi c'è un aggravio per le imprese, perché il costo del lavoro sale. In alcuni casi, come ho detto, non in tutti, perché ci saranno anche aziende che pagano già più del salario minimo che si vorrebbe mettere. Quindi per compensare l'aggravio alle aziende economico, dice da una parte mettiamo il salario minimo, dall'altra abbassiamo le tasse alle imprese, in modo che quello che perdono, alzando il salario minimo, lo guadagnano dall'abbassamento delle tasse. Cioè loro hanno al finale un zero, il totale delle due somme da zero. Quindi non hanno un costo in più e non hanno un guadagno. Però il lavoratore guadagna di più. E il lavoratore che guadagna di più può spendere di più. Spendendo di più fa crescere le aziende italiane e le aziende dove lavorano queste persone. Quindi alla fine c'è un ritorno economico anche per l'azienda, perché il lavoratore con dei soldi in più in tasca fa girare l'economia, rimette in moto l'economia in un paese che è assolutamente stagnante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Grazie e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.